Ciao a tutti, come state? Spero che vada tutto bene, oggi andiamo a portarvi forse il quarto episodio della serie in cui vado a confrontare due aziende che operano all'incirca nello stesso settore. Se vi siete persi i video precedenti, se non ricordo male, ho fatto AMD vs Intel, Visa vs Mastercard e Pepsi vs Coca-Cola. Se vi siete persi i video precedenti, vi consiglio di andare a vederveli perché sono molto brevi e vi danno subito un'indicazione più o meno chiara su quale potenzialmente, secondo me, è la migliore sulla quale investire. Tra l'altro, per tutte le aziende che vado a analizzare, alla fine del video lascio sempre la mia valutazione tramite un discounted cash flow e appunto una valutazione sui multipli, dando un possibile gain da 4 anni che secondo me potrebbe essere utile a tutti voi. Come potete vedere, oggi andremo a fare la comparazione tra due colossi del mercato pubblicitario. Sono Meta Platform, che non è altro che la holding che detiene marchi come WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger e tanti altri. E Alphabet, che non è altro che la holding che detiene brand come Google, YouTube, Waymo, Google Ads, Google Search, Google Maps e tanti altri brand importantissimi della nostra vita di tutti i giorni. Per chi non sapesse come funzionano questi video qua, semplicemente sono andato a inserire tutti gli indicatori che utilizzo tramite il mio algoritmo, che per chi non lo sapesse non è altro che un algoritmo che si bada su all'incerca una quarantina di input, che sono indicatori di bilancio, rating e altre cose, che alla fine danno una valutazione da 1 a 10 in termini di bontà dell'azienda e un possibile guadagno da 4 anni in termini percentuali. Li ho messi in colonna in modo che siano facili da comparare e ho messo in verde il dato migliore. Premesso che sono due aziende che hanno stati patrimoniali e conti economici praticamente perfetti, tant'è che poi successivamente vedrete il rating finale di entrambe le aziende e sono due rating molto molto elevati. E questo tutto principalmente al fatto che hanno sia indicatori sia rating di bilancio che sono praticamente perfetti. Tant'è che ad esempio Google ha un rapporto tra cash e cash equivalent, quindi semplicemente denaro all'interno dei propri conti e magari obbligazioni a breve termine, che sono addirittura 4.18 volte il debito totale dell'azienda. E questo lo vedete semplicemente nell'ultimo stato patrimoniale. Infatti se noi andiamo a vedere il totale del debito, che è semplicemente totale a lungo termine perché Alphabet a breve termine non ha debiti, abbiamo cash e cash equivalent per 113 miliardi di dollari. Che è una follia, tant'è che vedrete nei prossimi anni quanti buybacks faranno sia Google sia Meta. Quindi prestate molta attenzione a queste due aziende qua, perché la situazione qua cambia ma non troppissimo. Tant'è che Meta adesso attualmente ha cash per 40 miliardi e debiti totali solo per 25. E sono aziende che fanno dei free cash flow imbarazzanti, perché Meta ha un free cash flow attuale all'incirca intorno ai 20 miliardi l'anno, mentre Alphabet all'incirca 60. Cioè vuol dire che ogni trimestre fa all'incirca 15 miliardi di free cash flow. Follia. Come potete vedere, sullo stato patrimoniale non c'è praticamente paragone, tant'è che Google è migliore in ogni singolo indicatore. Per quanto riguarda invece i margini, la situazione anche qua non cambia. Premetto che sì, Google è migliore in alcuni dati, però sono tutti sempre dati straordinari. Cioè sono aziende che hanno un net margin praticamente del 20%, entrambe. Roe entrambe intorno al 20%, ROI del 18% per Meta e 25% per Alphabet. Sono indici di redditività che non si vedono praticamente mai. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Penso che attualmente Meta sia migliore di Alphabet praticamente solo sui multipli. Tant'è che a parte il price earnings dove è leggermente messa meglio Alphabet, abbiamo un price to sales di 3,85 per Meta che è più basso. Un price to book di 3,58 che è più basso. Un price to operating cash flow che è più basso per Meta. E un earnings yield che è più alto, però in questo caso qua è meglio un earnings yield più alto. Invece un indicatore che tengo sempre io d'occhio che è il PEG che non è altro che il PE fratto la crescita stimata per i prossimi anni dell'utile per azione. E qua più il dato è basso meglio è. Qua vince Alphabet tant'è che ha un PEG di 1,15. Considerate che secondo me un PEG di 1 potenzialmente è un PEG perfetto. Quindi più ci avviciniamo a 1 o scendiamo meglio è. Ora però andiamo a vedere qual è la parte succulenta. Ovvero la crescita stimata da 4 anni per gli utili, la possibile sottolotazione tramite un discounted cash flow e il possibile guadagno da 4 anni in termini percentuali. Infine vediamo anche il rating finale per entrambe le aziende. Ho stimato una crescita annua per i prossimi 3 anni dell'utile per azione per entrambe le aziende intorno tra il 15 e il 17%. Qua prevedo crescite per Google lievemente più alte e di conseguenza anche un possibile guadagno da 4 anni più grande per Alphabet. Tant'è che stimo un possibile guadagno da 4 anni per Meta all'incirca di un 45-46% e per Alphabet all'incirca un 70%. Il rating finale per entrambe le aziende è intorno all'8, lievemente più alto per Alphabet che ha un rating di 8.30 che è altissimo. Uno dei rating più alti che c'è all'interno del mio algoritmo. Per discounted cash flow invece abbiamo una sottovalutazione maggiore per Meta. Infatti abbiamo una sottovalutazione all'incirca di 24% per Meta e 22% per Google. Se siete interessati al discounted cash flow di entrambe le aziende ve lo faccio vedere adesso. Questo è quello di Meta e questo invece è quello di Alphabet. Detto questo fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete interessati a vedere qualche altro confronto. E niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!